Salve a tutti, oggi vi presentiamo la Canon EOS 650D, l'ultima nata di Canon, in questo kit propostano il 1855i S2 di ultima generazione. Dentro la confezione ovviamente troviamo il manuale con il software, la cinghia, il cavo USB, la batteria, il caricabatterie e il 1855 che è l'obiettivo di questa confezione. Questa invece è la macchina fotografica che corrisponde in tutto e per tutto come scocca alle meno recenti EOS 600 e 550D, lo sportellino è orientabile come in tutte le entry level di ultima generazione, quindi orientabile a 180 gradi e un display da 3 e 2, l'impugnatura è molto ben fatta, sopra trovate un microfono mono. Vi ricordo che la EOS 650D può montare gli ultimi obiettivi STM per autofocus in video, la macchina è dotata di 18 megapixel, gli ISO vanno da 12.800 a 6.400, il display come vi ho detto è da 3.2, l'LCD orientabile è anche touchscreen, il sensore è CMOS, ovviamente i video sono in full HD, si possono mettere ovviamente tutti i flash di corredo Canon, però questa macchina di ultima generazione ha addirittura il trasmettitore speedlight integrato che solitamente le altre macchine non hanno. Questa è la Canon EOS 650D, io vi saluto e alla prossima recensione allo store.